Dopo le accuse di dossieraggio lanciate da Grillo e Casaleggio, il Quotidiano Il Tempo passa in rassegna ai bilanci della Casaleggio Associati. Ricavi in attivo prima del successo del movimento, poi in rosso, ma sui proventi della pubblicità, sostiene il Quotidiano, restano ombre. I 5 Stelle intanto non mollano la presa sul governo. Pagare il commissario alla spending review Cottarelli è inutile, sostengono Renzi verità, gli non li farà mai. I politicanti fanno finta di litigare, ma in realtà sono schiavi delle lobby e dei banchieri. Il segretario del PD non ha nessuna credibilità, né in Italia né in Europa. Le riforme si fanno in Parlamento, che è la casa della democrazia, il Movimento 5 Stelle le vaglierà opportunamente secondo il bene dei cittadini.